Il Vice Presidente del Soccorso Alpino Nazionale, grazie per la presenza oggi a Dovindoli, un segnale importante di una cittadina che si trova nel cuore del Parco Naturale Regionale Sirente Vedino. Sempre più persone scoprono la montagna, spesso però in maniera un po' superficiale si affronta la montagna in maniera un po' sprovveduta. Quali consigli e perché oggi la vostra presenza qui? Il Soccorso Alpino Speleologico da sempre cerca di lavorare molto sulla prevenzione e per noi è molto importante che chi affronta la montagna, che è un territorio meraviglioso, lo faccia nel migliore dei muori, quindi cercando di avere le giuste conoscenze e l'attrezzatura adeguata. Quindi non sottovalutare mai la montagna e i suoi percorsi e le sue bellezze.